Chi l'avrebbe detto quel martedì mattina di due settimane fa, quando Calzone arrivò all'hotel Britannic per incontrare De Laurentiis prima del suo primo allenamento a Castelvolturno, che il Napoli, grazie al vice Sarri prima e al vice Spalletti poi, si sarebbe rialzato riuscendo ancora una volta a battere allo stadio Maradona la cerrima nemica bianconera, che solo qualche giorno prima era in lotta con l'Inter per vincere lo Scudetto. Eppure quel sono felicissimo, detto con grande sicurezza dal mister, a chi gli chiedeva come si sentisse, doveva far presagire qualcosa. Come si sente? Benissimo, felice. Ieri allo stadio si è vista una squadra completamente diversa da quella a cui i tifosi si erano abituati. Compatta tra i reparti, ampia sulle fasce, boiosa di fare il risultato e mai doma. Nonostante il gol di Chiesa potesse spezzare le gambe, gli uomini allenati da mister Calzona ci hanno creduto fino alla fine, fino a fare esplodere di gioia i tifosi sugli spalti e a casa. Penso che il Napoli è tornato un'altra volta. È giocato benissimo, non bene, che continua sempre così. Guarda, la squadra a tratti ha giocato molto bene. Che ti devo dire, goduri a massimo. Ci voleva questa vittoria perché il Napoli sta avendo molta fiducia in se stesso, quello che aveva perso nelle ultime partite. Il Napoli sta acquistando molto più fiducia proprio in quei singoli che c'erano mancati. Ma sì, squadra coraggiosa. Una partita molto accesa, molto bella. Comunque c'è stato qualche errore. Però il Napoli il cambiamento che c'è stato è la mentalità. I ragazzi si sono anche forse più liberi, quindi comunque sono contenti per questa vittoria. Speriamo di risalire, anche se è difficile.